Signore e signori, telespettatori tutti di Rossini TV, buonasera. Questa sera vogliamo raccontarvi attraverso un cammino nella storia, negli obiettivi, ma soprattutto nei valori, un mondo fatto di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo, con particolare attenzione ai diritti e ai valori dei minori. Abbiamo qui con noi la presidente della fondazione Vanda di Ferdinando ETS, ente del terzo settore, l'avvocata Federica Maria Panicali. Benvenuta Federica. Grazie, grazie mille per l'invito e buonasera a tutte e a tutti coloro che ci stanno guardando. Federica, come tutti noi sappiamo, un viaggio di mille miglia inizia sempre da un singolo passo. Torniamo un pochino indietro nella storia. Che cosa accadde nel 2003 e chi era soprattutto il dottor di Ferdinando? Sì, Renato di Ferdinando era un medico, è un ricercatore marchigiano e è stato primario di oftalmologia presso l'ospedale San Salvatore di Pesaro ed anche docente di clinica oculistica presso l'Università di Roma. Era sposato con Vanda de Angelis e il loro è stato un grande amore e in memoria della moglie che purtroppo è mancata nel 1977, il dottor Renato di Ferdinando ha scelto di costituire una fondazione proprio nel luglio del 2003 e qui nasce la fondazione Vanda di Ferdinando ETS, oggi ETS. Federica, possiamo dire che si tratti di un cammino costruito nella storia, un cammino che riguarda una memoria importante? Sì, come dicevo, il rapporto tra il dottor Renato di Ferdinando e la moglie è stato un rapporto intenso, ma ha vissuto anche nel tentativo di aiutare le persone. Tutta la loro vita è stata impostata con grande generosità, come generosa era la signora Vanda, che era anche molto tenace. E in quest'ottica, nell'omaggiare la moglie con la costituzione di questa fondazione, il dottor Renato di Ferdinando ha devoluto tramite la fondazione il proprio patrimonio a favore dell'intera comunità, in particolare con un'attenzione rivolta verso le bambine e i bambini. Nel 2014 Federica si è insediato il CDA. Quali sono i compiti che il CDA ha portato avanti? Sì, nel 2014 sono stata nominata presidente della fondazione Vanda di Ferdinando con un nuovo assetto di governance. Questo consiglio di amministrazione si è subito reso consapevole che prendeva con sé un'eredità importante, che era quella non solo di attivare concretamente l'attività istituzionale della fondazione, ma ereditava anche il compito di tramandare la storia della famiglia di Ferdinando. E quindi subito il consiglio di amministrazione si è impegnato con uno spirito di servizio, si è attivato per porre in essere quelle attività che erano la mission da realizzare mantenendo la promessa che la famiglia di Ferdinando con la sua generosità aveva rivolto all'intera collettività. La fondazione Vanda di Ferdinando nasce come una fondazione di famiglia, ma poi nel tempo viene rappresentata da sette enti. Quali sono e perché? Sì, questi sette enti vanno a nominare i componenti del consiglio e gli enti attualmente sono la provincia di Pesaro e Urbino, il comune di Pesaro, l'arci di Ocesi di Pesaro, l'università di Urbino, il CSV Centro Servizi Volontariato delle Marche, il forum del terzo settore e la Fondazione Casa di Risparmio di Pesaro. Lo scopo qual è? Questa pluralità di componenti del consiglio di amministrazione garantisce una gestione del patrimonio attenta, consapevole e trasparente e l'obiettivo è proprio quello di utilizzare la generosità appunto della famiglia di Ferdinando in maniera efficace e attenta. La fondazione è nata a Pesaro, ma qual è il rapporto che si è costruito nel tempo nel territorio? La fondazione ha cercato di creare delle connessioni tramite relazioni, azioni e parternariati con le associazioni, gli enti pubblici e privati presenti sul nostro territorio. Perché abbiamo cercato di fare questo sin da subito? Perché per cogliere i bisogni presenti all'interno della nostra comunità dovevamo relazionarci con chi ha un contatto diretto con quei bisogni per poter rispondere nel modo migliore a queste esigenze. La fondazione mette a disposizione delle risorse, ma in questo caso possiamo parlare di risorse tangibili e intangibili. Perché? Sì, perché in genere una fondazione come la nostra viene individuata come soggetto erogatore di finanziamenti per progettualità. È vero, lo facciamo. Queste sono risorse tangibili. Quindi eroghiamo tramite bandi o tramite erogazioni dirette. Però quello che cerchiamo di fare è creare sinergie preziose con le associazioni, gli enti del terzo settore presenti sul territorio e quindi incardiniamo un dialogo costante per comprenderci e avere fiducia in maniera reciproca. Ma quello che possiamo fare, le risorse intangibili che offriamo in questo dialogo costante di conoscenza sono anche quelle di creare appunto le connessioni, ma offrire idee e competenze che noi possiamo dare agli enti presenti sul territorio. Diritti dei minori e diritto all'istruzione sono i cardini fondamentali della fondazione. Cosa è successo in merito a questi obiettivi negli ultimi dieci anni, dal 2014 al 2024? Sì, abbiamo cercato. Le nostre priorità da sempre sono proprio i minori e ci siamo focalizzati anche sul diritto all'istruzione. Abbiamo fatto riferimento alla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo e ai principi che porta con sé. In particolare in merito al diritto all'istruzione lo vediamo come strumento per realizzare la personalità umana e per garantire e promuovere la pace e il rispetto tra gli individui. Ecco che la possibilità di avere un'istruzione di qualità è quello che noi cerchiamo di garantire ai minori perché comunque avere la possibilità di studiare ci permette di comprendere noi stessi il mondo che ci circonda, acquisire competenze e conoscenze, comprendere le nostre potenzialità e quindi ciascuno di noi grazie a un'istruzione di qualità può successivamente restituire le proprie capacità e le proprie conoscenze. È un modo per emanciparsi, per poter esprimere liberamente il proprio pensiero, ma l'istruzione è fondamentale anche per garantire pari opportunità e contrastare le disuguaglianze sociali. Quindi Federica a questo punto penso che si possa parlare proprio di circolarità tra quelli che sono i vostri progetti italiani e anche i progetti esteri. Sì, infatti appunto in questi dieci anni la fondazione ha finanziato addirittura 40 progetti. Alcuni di questi progetti sono stati realizzati nella provincia di Pesaro Urbino, ma abbiamo anche cercato di aiutare delle realtà presenti all'estero. In particolare attualmente stiamo finanziando un bosco nel territorio di Merida e poi per quanto riguarda l'Etiopia aiutiamo l'associazione di Abba Marcello a costruire degli edifici scolastici e in Kenya siamo con l'Africa Chiama per tutelare le bambine e le adolescenti che hanno bisogno di protezione e luoghi accoglienti dove poter studiare. In questa nostra opera di connessione tra le progettualità italiane e le progettualità all'estero cerchiamo di metterle appunto in collegamento circolare in modo da farle conoscere tra loro e di portare un po' di quello che c'è all'estero in Italia e viceversa. Nel 2017 vi siete associati ad Assifero, l'associazione delle fondazioni e degli enti filantropici. Sì, abbiamo nel 2017 diciamo che si è sedimentato il nostro operato e abbiamo aperto una riflessione su un confronto che volevamo aprire con altri enti simili al nostro perché per noi la crescita e lo sviluppo delle nostre potenzialità è un obiettivo importante e ci siamo domandati come potessimo farlo. Volevamo aprire appunto un confronto con altri enti a livello nazionale e a livello anche europeo e abbiamo pensato di farlo iscrivendoci ad Assifero che appunto come dicevi è l'associazione degli enti filantropici e delle fondazioni italiane e questo appunto ci ha permesso di conoscere altre realtà, apprendere le best practice ma anche di dare luce all'eccellenza del terzo settore che ci sono sul nostro territorio facendole conoscere anche al di fuori con molto orgoglio devo dire. In merito a questo ci tengo anche a sottolineare che a settembre grazie appunto ad Assifero porteremo nel programma e nell'agenda di Pesaro capitale della cultura 2024 avremo a Pesaro la conferenza nazionale delle fondazioni di comunità che appunto è promossa e realizzata da Assifero. Anche questo lo dico con molto orgoglio. Federica quali sono state le priorità iniziali della fondazione e come poi si è evoluto tutto osservando il futuro? Cosa è successo nel tempo? Beh nel tempo appunto noi siamo partiti occupandoci di minori, di diritto all'istruzione e poi ci siamo domandati dove ci vediamo tra tre anni, cinque anni perché abbiamo iniziato a ragionare con un'ottica temporale un po' più estesa anche nel finanziare le progettualità e quello che ci ha colpito parlando di giovani generazioni è la problematica climatica. La crisi climatica riguarda noi oggi ma ci deve impegnare oggi proprio con riferimento ai giovani e alle future generazioni perché è evidente che la crisi climatica ha un maggiore impatto non solo attualmente dove ci troviamo anche noi ma sulle situazioni che soffrono già crisi economiche e amplifica le disuguaglianze. Quindi cerchiamo di occuparci anche di questo comunicando la problematica. Federica cosa rappresenta per voi il progetto articolo 26 e cosa avete fatto in questi ultimi cinque anni? Sì per noi diciamo una cartina di tornasole è sempre stata anche la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 26 di questa appunto di questa dichiarazione universale dei diritti dell'uomo tratta proprio il tema dell'istruzione che per noi è elemento ispirante e è considerata l'istruzione appunto come elemento per lo sviluppo della personalità umana e per la tutela dei diritti umani e per la parità e l'uguaglianza sociale. Ecco ispirandoci a questo abbiamo sviluppato un progetto autonomamente ma anche in collaborazione con altre realtà presenti sul territorio che appunto si rivolge ai più piccoli e cerca di affrontare il tema dell'istruzione con una modalità inclusiva quanto più possibile quindi ci rivolgiamo ai bambini ma anche alle loro famiglie con un progetto che si struttura con incontri, momenti di gioco, rappresentazioni teatrali e musicali cercando di far conoscere anche le problematiche ambientali ai più piccoli e alle loro famiglie facendo passare dei messaggi positivi con delle dinamiche diciamo anche più facili magari divertenti in modo da far comprendere loro che ciascuno nel proprio piccolo con una singola azione può fare qualcosa purché il tutto sia operato in collettività. Cosa rappresenta per voi l'agenda 2030 dell'ONU? Sì l'agenda 2030 dell'ONU per noi è un documento molto prezioso, lo utilizziamo per orientarci, è una guida operativa per comprendere e far comprendere anche agli altri l'importanza di un futuro equo e sostenibile. In quest'ottica come dicevo prima cerchiamo di comunicare e condividere l'idea che il singolo da solo per quanto sia importante l'azione che può compiere però deve vederla in un'ottica complessiva, insieme possiamo fare la differenza per contrastare la crisi climatica ma non solo quella, le disuguaglianze e la perdita di biodiversità. Ecco noi ci adoperiamo per portare i concetti, i goals, gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 anche sul nostro territorio con azioni positive e propositive su alcuni settori in particolare appunto l'istruzione, la parità di genere e l'ambiente. Il 2024 rappresenta per la Fondazione Vanda di Ferdinando un anno di particolare rilievo proprio perché la Fondazione Vanda di Ferdinando è technical sponsor di Pesaro Capitale della Cultura. inoltre si celebrano i dieci anni di fondazione e come ha già detto la Presidente poco fa proprio nel mese di settembre ci sarà a Pesaro l'Assemblea Nazionale di Assifero. Non possiamo fare altro che augurare alla Fondazione Vanda di Ferdinando da parte di Rossini TV e da parte di tutti i nostri telespettatori un futuro ricco di successi in un cammino importante di inclusività. Grazie Federica, grazie per essere stata con noi. Sono io che ringrazio voi, grazie mille per l'ospitalità e un caro saluto a tutte le vostre telespettatrici e ai vostri telespettatori. Grazie a tutti per averci seguiti e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.